Camminava nel centro di Subbiano esibendo un'arma, una pistola che nella stessa sera aveva mostrato ai passanti con fare minaccioso, ma non solo, aveva anche girato un video, presumibilmente nei pressi della caserma dei carabinieri, per poi condividerlo sui social. Ma i militari della stazione di Subbiano lo hanno intercettato e denunciato per il reato di portodarmi o oggetti atti ad offendere. A finire nei guai un ventenne residente nel comune vicino di Capolona, ma che da tempo frequenterebbe l'area verde di Subbiano e i locali della cittadina. La presenza della pistola sarebbe stato solo l'ultimo di una serie di gesti considerati dai residenti sconsiderati, tanto che molte sarebbero state le segnalazioni alle forze dell'ordine. Il giovane è stato così trovato dai carabinieri in un bar della zona. Con sé aveva una pistola scacciacani, priva del tappo rosso, di tipo semi-automatico e 30 cartucce a salve calibro 8. Arme e munizioni sono state sequestrate. I militari hanno poi approfondito le indagini appurando che il ragazzo aveva prodotto diversi filmati sulle sue sconsiderate cesta, già pubblicate sui vari social network. Il ventenne è stato colpito così anche dalla misura del divieto di ritorno nel comune di Subbiano per tre anni.